Cresce l'attesa per il transito del Giro d'Italia che attraverserà con la sua corsa la città di Battipaglia per l'ottava tappa della centunesima edizione della competizione ciclistica nazionale. Per l'occasione la strada provinciale litoranea sarà chiusa al traffico insieme a tutte le strade che vi confluiscono. La chiusura al traffico temporanea sarà in vigore dalle ore 13 alle 16 anche in via Doria e via Idrovora e in tutte le strade di accesso agli stabilimenti balneari che intersecano la statata 175 per garantire la sicurezza del passaggio e i ciclisti che saranno incitati da migliaia di battipagliesi.